Ciao viaggiatori, in questo momento la vita ci sta chiedendo il massimo e lo sta facendo attraverso una pressione tale che a volte abbiamo paura di quello che proviamo. Ma la cosa importante non è temere quello che accade a livello fisico o psicologico, ma è semplicemente comprendere perché sta accadendo tutto questo. Quindi cambiare la prospettiva verso una visione interiore è fondamentale per capire davvero ciò per cui siamo venuti, quindi il senso della nostra vita, l'importanza di chiederci chi siamo, l'importanza di chiederci cosa siamo venuti a fare, qual è il senso della mia vita? Io credo che queste domande siano determinanti per un importante lavoro su se stessi e il lavoro su di sé è in assoluto il lavoro più importante della vita. Tutto quello che viene poi serve per vivere in questa dimensione, ma il lavoro su di sé è indispensabile per raggiungere la consapevolezza, per raggiungere la consapevolezza e la considerazione di ciò che davvero siamo e quindi ci permette di mostrarci al mondo nella verità del nostro cuore. Perciò non abbiamo paura, non abbiate paura di mostrarvi, siate voi stessi e portate alla luce i vostri talenti perché i vostri talenti sono preziosi per il servizio alla quale siamo chiamati. Ciao viaggiatori!